Non c'è alcuna carica ufficiale, nel momento in cui ci sarà avrete sicuramente una nota. Abbiamo avuto qualche esperienza con altre società di Sernia Calcio e poi altre questioni che hanno riguardato la mia professione. Però vorrei specificare che sono da sempre un tifoso dell'Avellino e mi conoscono in tanti, quindi avendo frequentato la curva, avendo sofferto per questi colori.